Benvenuti a Terra Madre, stand della Cammar di Commercio con Maestre del Gusto, non ha bisogno di presentazioni, Guido Gobino, maestro da sempre, maestro di cioccolato. Cosa ha portato alla Guido Gobino Essere Maestre del Gusto? Ma guarda, Essere Maestre del Gusto intanto è un onore, nel senso che comunque è la consacrazione di tanti anni di lavoro. Aveva iniziato mio padre nel lontano 1964 e quindi portare avanti una tradizione di famiglia ed avere comunque la possibilità di freggiarsi di questo titolo che comunque è unico nel suo genere in Italia, direi, e per noi è stata comunque una ricchezza anche, cioè comunque un riconoscimento da parte del cliente anche di questa consacrazione, diciamo. Cosa significa per voi portare il cioccolato di eccellenza a Terra Madre? Allora, significa, noi seguiamo Terra Madre da sempre, da quando è nata, e significa portare a un pubblico preparato, un pubblico sapiente, al pubblico di Terra Madre che è il pubblico che rispetta i produttori, rispetta le materie prime, rispetta il cibo buono e dare la possibilità a tutti di usufruire del nostro assaggio, del nostro cioccolato e far capire quanto è importante la nostra terra, il nostro territorio, le nostre nocciole per fare del cioccolato eccellente. Grazie Guido Gobbino e buona Terra Madre. Grazie a voi.